Medici per l'ambiente, quindi i saluti di Gaetano Rivezzi e di tutta la nostra organizzazione. Poi lancio subito una provocazione, che secondo me dei lavori di questo tipo vanno pubblicati. Quindi, visto che Loredano è già stato così bravo col libro, io penso che un'operazione di questo tipo vada fatta. E dico subito che il mio intervento è un po' strano, perché io dico che il PNR è la rivoluzione del capitale. La crisi del Covid-19 non solo ha creato un dibattito tra gli epidemiologi e i virologi, influito su quello che è la nostra cultura e sulla politica, ma soprattutto agito sui meccanismi della globalizzazione, innescando i processi di chiusura. Il virus ha modificato le fondamenta del discorso sulla mondializzazione, nelle dimensioni in particolare politiche e di economia finanziaria. Ha colpito tutti gli organismi sovranazionali, una cosa che noi dimentichiamo molto spesso. Ha colpito l'ONU, ha colpito l'OMS, ha colpito l'Unione Europea. Molto spesso anche il discorso della guerra va letto in termini diversi. Minato quindi quelli che sono gli spazi globali, oltre il quadro economico finanziario. La libertà di movimento individuale, il capitale umano. L'impatto in termini economici, sociali e politici è stato di enorme portata ed è di essi che secondo me al momento sono ancora imprevedibili. La scelta di chiudersi all'interno dei propri confini, generata dal timore ossessivo del contagio, ha visto anche nell'individuo, nell'altro, il pericolo dell'untore, del nemico, riportandoci a degli elementi di tipo nazionale. E parlando di quello che diceva all'epoca un compagno, l'architettura repressiva dello spazio disciplinato. Tutto inefficace in un mondo che ha scelto la globalizzazione. Ecco quindi la crisi del sistema profondo e generale che mette in crisi tutte le istituzioni sovranazionali, riportandoci all'interno di un discorso nazionalista. Così il fallimento dell'OMS. Prima, nel non sapere individuare il pericolo della pandemia, che io chiamo sindemia perché i risvolti di tipo sociale li vedremo nei prossimi mesi. Ma cosa è più grave? Nell'incapacità a contenere all'interno di quelli che non sono più aree territoriali il problema del Covid. L'Unione Europea, che se ricordate, rimase ferma rispetto in effetti a quello che era la diffusione del contagio, con la Presidente della Commissione Europea, la nostra Ursula, che lateralmente non sapeva che cosa fare. Noi dimentichiamo molto spesso i comportamenti di queste persone. Il blocco del Covid ci aveva lasciato tutti quanti sorpresi. Che cosa è accaduto in quella fase? Che i flussi finanziari, quelli là che noi, ho sentito pure il compagno Ferrero, parlare dei problemi legati alla finanziarizzazione oggi dell'economia. Quei flussi fuggirono completamente a quelle che erano le normali regole del mercato. E che cosa dire, quindi, della Presidente Lagarde? Questa qua che aveva guardato in effetti verso la Grecia come un moderno stimolo di neoliberismo accentuato. Ricordate i porti della Grecia che sono stati venduti? Tutte le sue dottrine scientifiche, tutto quello che è la realtà del liberismo, fu messo in crisi dal Covid. Questo noi ce lo dobbiamo dire, però il capitale, cari compagni, è qualcosa di estremamente rivoluzionario, come mi insegna Rino. Il tempo che era, è stato rallentato dal Covid, perché la globalizzazione ci porta ad una consuma del tempo che è molto più rapido. Il tempo in un'epoca di globalizzazione non esiste. Questa situazione è necessaria quindi a coloro che sono i detentori del vecchio futuro di instradare una nuova strada per impedire le nuove forme di pandemia. Guardate che nel campo che io esercito tutti i giorni, insieme agli amici e i colleghi con cui stiamo lavorando, vedete, il domani il mondo della globalizzazione senza i confini rende necessario una strutturazione dei territori. Questo ce lo dicevano già i nostri fatti. Quindi forme emergenziali che non debbono più colpire l'economia del capitale e in particolare quello che è il capitale umano. Noi abbiamo visto quello che è accaduto in Cina, vi ricordate? In Cina in effetti il problema era il capitale umano. Noi questa cosa qua non la siamo, non l'abbiamo ancora coperta, ma il capitale che ha la capacità di riformarsi, che cosa fa? Pesca in quello che è la nostra riforma sanitaria, quella là di Giulio Maccagano, quella là delle 833 che è stata tradita, dove Giulio non parlava di cura, ma parlava di prevenzione. Il medico non cura, il medico previene. Il capitale europeo si rende conto che c'è la necessità di regolare i flussi sanitari. Guardate, mentre noi parliamo, in Europa dal primo gennaio 2023 esisterà un solo numero per i pronti soccorsi, 116, 117, quasi finito. Guardate che ci sono qualche cosa come 4 miliardi e mezzo di euro che dovranno essere spesi nei prossimi mesi. Guardate che Draghi se ne è strafegato delle strutture regionali, se ne è strafegato di De Luca e quando De Luca non ha voluto firmare, perché dice a me mi mancano gli operaturi, ha fatto l'articolo 71 e è andato oltre. Ha già strutturato quelle che saranno le nuove strutture che dovranno fare da rete sul territorio, ma mica sul territorio italiano. Forse in tutto questo noi siamo quelli che arrivano più tardi, ma noi dovremmo avere case di comunità, ospedali di comunità, i centri operativi territoriali con la telemedicina e tutto questo è stato fissato ed è uscito in gazzetta ufficiale sette giorni fa. Noi rispetto a tutto questo siamo in enorme ritardo. Non possiamo in effetti più interferire su quelle che sono le scelte europee per impedire che una nuova epidemia possa bloccare il mercato economico. Possiamo però intervenire, ed ho finito, intervenendo su quello che è il controllo dal basso di queste cose. Perché una cosa ha messo all'interno della regolamentazione sanitaria l'Unione Europea, perché noi abbiamo paesi più avanzati e poi abbiamo paesi come il nostro che vanno a trarre, è la presenza degli organismi di base nella strutturazione delle aree territoriali. Ora, su questo io penso che in un futuro ipotesi di governo, di progetto, questo ci deve stare. Certamente è importante l'autonomia differenziale, ma io voglio governare. E se permettete, la mia sanità, la mia salute, io me la voglio autogovernare. E questo significa un impegno fortissimo che dovrebbero avere le organizzazioni di sinistra su questi meccanismi di controllo, che sono quelli che poi vedremo nei prossimi mesi. Perché il progetto è già partito. Grazie. Grazie Franco Musume.